salve care vediamo cosa prova per voi una data persona attrazione c'è una forte attrazione magnetica tra di voi passione sfrenata è proprio qua c'è una passione proprio un'anima piena di passione qua però dite la carta vi dice prima di tutto ama te stessa quindi o te stesso quindi dovete avere rispetto per voi è sicuro per te amare quindi dovrete poi aprire questo cuore per dare ricevere quindi qui c'è una situazione molto bella fatevi aiutare da qualcuno ci si accetta e supporto di qualcuno e qua per voi è passato il momento di tornare ad essere libero questo è un momento che riprenderete perché ci sarà questo amore che è un amore bellissimo vedete anime gemelle quindi questo è un amore corrisposto e ci sono le anime gemelle e qui abbiamo la carta che ci dice pensa con ottimismo alla tua vita amorosa perché pensare positivo e avere fiducia vi porteranno l'amore prendiamo l'ultima carta potrebbe essere la persona giusta quindi ha incontrato il partner che cerchi andiamo a vedere adesso di prendere qualche segno per vedere un po qualche segno a chi potrebbe riguardare questa stesa ovviamente i segni sono un'opzione però li prendiamo cancro scorpione gemelli acquario sagittario pesci toro vergine questo è quanto ragazze un abbraccio di luce al mio prossimo interattivo ciao